È importante che gli studenti siano vaccinati prima dell'inizio dell'anno scolastico. La Regione Puglia ha l'obiettivo chiaro. Dal 23 agosto chiamerà ad uno ad uno tutti gli studenti tra i 12 e i 17 anni per somministrare loro il vaccino prima dell'inizio dell'anno scolastico. Un compito semplice? Preferisco che i bambini mettono sempre la mascherina anziché vaccinarli per il momento. Per il figlio? No, non lo voglio fare. Perché? Ho paura. No, semplice il compito non lo sarà ed è per questo che la strada scelta è la chiamata diretta senza attendere spontanee prenotazioni. Sicuramente ci aspettiamo una certa resistenza in questa fascia. Non tanto da parte dei ragazzi quanto da parte dei genitori. Questo l'abbiamo osservato già anche in altre nazioni. Il fronte dei genitori è diviso. Io sono pro vaccino. Infatti ho anche preso appuntamento per lui che ha 12 anni. Appena si sblocca la situazione dei vaccini glielo faccio fare. Io credo sia giusto o rendo l'obbligatorio. È troppo semplice dare la responsabilità a un genitore. Chi ci governa dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. Non siamo contro il vaccino. Però momentaneamente aspettiamo magari che passi l'estate. 15 giorni fa ho vaccinato mia figlia di 16 anni. Quanto è stata combattuta in lei la decisione? A me sì. Per vaccinare soprattutto la piccola. Però poi è prevalso appunto il fatto di voler tornare alla normalità. E quindi va bene così. E sua figlia invece voleva vaccinarsi? Sì, assolutamente sì.